Se io avessi ammazzato il governatore della Banca d'Italia, tutti i giornali ne avrebbero parlato, ma solo per qualche giorno. E allora la mia ricerca continua. Armageddon ha tutto il tempo che vuole. Voi, no. Vi saluto. Non ci riesco, ma è abbastanza tardare. Ciao. C'è un tipo malin, sicuro di lui. D'autant più agressivo e che gli è veri. Tu credo è vero? Ce che mi preoccupare è un po' di pubblicità, è il prezzerà n'importe qui per il parlare di lui. E il chico in된ienza la Bibliosi, Armageddon? Ci chiedi, non ci sia un giusto per il suo iposaglio di per la societatria. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Nous avons essayé d'établir des portraits robots, mais ce sont des hypothèses, rien que des hypothèses, car il est évident qu'un maguedon est maquillé, grimé, de manière très habile. Il porte une perique et peut-être sous ses lunettes, des verts de contact. D'autre part, les témoignages concernant le complice sont contradictoires. Euler m'a téléphoné ce matin, le vice-badana. Là-bas, à la suite de l'affaire Mercedes, la chancellerie prend les choses au sérieux. Il commence à bouger. Personnellement, je pense qu'on aura du mal à aboutir en employant des méthodes classiques.